appogato dai! metti il muso qua appogato dai! come stava a fare luce? dai metti il muso qua appogato dai capelli mettiamo son la dai luce fai vedere come fai? dai fai vedere appogato dai! dai dai non ti distrarre appogato dai capelli mettiti qua qua fai come facevi prima dai 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 metti qua fai sentire come facevi appogato dai capelli fai sentire dai fai sentire la canzone che stavi a cantare dai metti qua metti il muso qua dai dai forza tira forza pescatoria come cantava luce appogato dai capelli down tic tac boom man mano metti qua il musetto mamma dai fai ff ff e canta 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 dai che se canti diventiamo fam... a poco di capelli down tric tac diventiamo famosi mamma diventiamo famosi a poco di capelli down tric tac tic tac tic tac poca di capelli down dai diventiamo... diventiamo famosi diventiamo famosi ecco brava ma perchè fai così? ma sei un cane normale ma sei un cane normale eh? sei un cane normale vedi anche luce a poco di capelli down conosce la mia sindrome i turrette come fai col piedino? così come fai? poco di capelli down tric tac vedi lei non si spaventa perchè lei c'è nata così che faccio così è vero? luce luce diciamo io c'ho la sindrome di turrette vedi? luce è il nino vippo mi dice Antonella mi compri la casa in campagna così io bello vengo su faccio i cane nella villa vuoi andare nella villa di Antonella? vuoi andare? eh? vuoi andare nella villa di Antonella? vedi Antonella che fa lei facendo così perchè Antonella non lo capisce perchè lei dice che c'è i cani grandi che ti sbranano invece no i cani non sbranano i cani perchè luce è buona vuoi andare a casa di Antonella? ecco vedi Antonella che dice di sì ciao di ciao ciao a tutti